Fammi un po' vedere sto catalogo. Dove vorresti andare, scusa. Scegli sempre te. Ma lo sai, io in un posto bellissimo, sole, mare, spiaggia, immersioni. Queste informazioni dove le troviamo? Abbronzatura. Ma non lo so. Io un'idea ce l'ho. Il mercoledì alle 22 c'è? Travelers, consigli per il viaggio. Vi aspettiamo.